Ciao a tutti, come riconquistare un iperlogico? Allora, dobbiamo tenere presente questo, che intanto che si tratta di riconquistare significa che una volta l'hai conquistato, perlomeno. E quindi, se hai conquistato un iperlogico, l'hai conquistato sicuramente perché anche da un punto di vista logico-razionale, ricordiamoci che gli iperlogici hanno una parte logico-razionale fortificata, diciamo, rispetto alle persone emotive, si sarà fatta un'idea che tu, in qualche modo, gli andavi bene, che potevi essere la donna della sua vita, la persona giusta. E quindi, poi, se l'iperlogico se n'è andato, è perché, diciamo, anche da un punto di vista logico-razionale, perché gli iperlogici, quando si mettono in una relazione di coppia, impiegano molto tempo, non è mai una cosa c'è il sereno, un fulmine c'è il sereno, il fatto che se ne vadano. Quindi, nel tempo, sicuramente, questi puntelli, diciamo, logico-razionali sono venuti meno. Non gli avrei più dato un'assicurazione, diciamo così, cognitiva, che potevi essere la donna giusta, la persona giusta. E questo per mille motivi. Potrebbero essere subentrati, ad esempio, che ne so, degli antagonisti, per cui lui ha iniziato a pensare che magari, forse, si era fatto un'idea sbagliata di te, oppure mille ragioni. Altrimenti, se lui si fosse coinvolto, diciamo, con altre persone, e questo è possibile, l'avrà fatto nel tempo, per cui sicuramente ti avrà dato dei segnali, dei segnali che probabilmente non hai colto. Ecco quindi che per riconquistare un iperlogico, devi entrare, diciamo così, mantenendo un... non devi mai uscire fondamentalmente dalla sua vita, cercare di mantenere sempre un rapporto, eliminando la rabbia, il rancore, questi veleni mentali, diciamo. Quindi, se ci fossero, devi lasciare passare un po' di tempo, almeno 21 giorni. E poi ricercare un approccio graduale, basato magari inizialmente sull'amicizia, perché poi, piano piano, devi andare ad abbattere i suoi vincoli logici. Cioè, ci vorrà un po' di tempo, dovrà farsi l'idea che, da un punto di vista logico-razionale, forse si era sbagliato e tu effettivamente puoi essere la persona giusta. Però devi capire quali sono i motivi che invece l'avevano indotto prima a pensare che non eri quella giusta. Nel momento in cui si è creato questo, e lo capisci perché anche da un punto di vista dell'amicizia ti cercherà di più, vorrà mantenere più contatti, eccetera, allora per dare uno scossone potresti mettere un po' un antagonista, un qualcuno che potrebbe toglierti, diciamo, la sua sfera di influenza. Spesso gli iperlogici hanno un po' l'esigenza anche dei controlli in alcuni casi, per cui in quel caso lì poi introdurre un antagonista dopo che acquisito il potenziale può favorire il fatto che ritorni. Deve farsene una ragione però di tutto questo, quindi ci vorrà un po' di tempo. Però a riconquistare un'iperlogica è possibile se si agisce in questo modo secondo la strategia giusta, evitando di dare troppi scossogni emotivi, perché l'iperlogico, sì, le emozioni diciamo devono essere graduali, un po' come far bollire la rana, no? Se la butti subito nell'acqua calda questa scappa. Se invece la butti nell'acqua a temperatura ambiente, poi piano scaldi l'acqua, questa si trova bollita senza neanche rendersene conto. È la stessa cosa per gli iperlogici, non emozioni forti di botto, ma emozioni graduali crescenti che piano piano lo coinvolgono. Per questo video è tutto, ti ricordo due cose, se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di partecipare a un'estrazione e vincere un corso con me o dal vivo o via video, quindi iscriviti al canale e potrai partecipare a questo corso. Seconda cosa, domani, venerdì 27 gennaio, otterrò a Torino un corso su seduzione e emozioni, come coinvolgere attraverso le emozioni e sviluppare anche autostima, che è fondamentale. Quindi domani, venerdì 27 gennaio, Torino, ore 20.45, Educatore della Provvidenza, in corso 3013. Il riferimento è 333 15 11 703. Ciao!